Siamo stati invitati qui in Casa Eccellenza per presentare i nostri prodotti. Noi produciamo formaggi di capra, lavoriamo soltanto latte a crudo, quindi senza aggiunta di enzimi particolari, se non di caglio e sale marino per la stagionatura. Siamo un'azienda relativamente giovane, a conduzione familiare, dove si allevano capre e si produce formaggio di qualità. Nel Monferrato. Vogliamo invitare le persone che vengono a sciare qui al Sestrier, non soltanto a divertirsi sulla neve, ma a venire a conoscere un territorio che sicuramente non ha nulla da invidiare alle Langhe e a Roero. Il nostro prodotto di punta in questo momento è lo stagionato, quello classico, ma a cui abbiamo assolutamente affiancato delle novità, che sono lo stagionato alle erbe fini, ai quattro pepi e al peperoncino. E poi abbiamo una chicca che abbiamo portato qui da degustare con lo chef Zara, che è il nostro capronzola, cioè un ozzola di capra, per adesso in edizione limitata. Ho pensato con le nostre uova biologiche di fare una crema del territorio, che è lo zabbaglione, abbiamo dato un nome, il sambai, che sarebbe il nostro sambaiung, fatto con il passito siciliano, uova e zucchero di canna. È completamente biologico e lo proponiamo qua a Sestrier come riscaldante e ringoverente per gli sportivi anche. È una cosa nuova da sostituire magari un po' il bombardino. Noi siamo un brand che nasce da circa più di un anno. Siamo a riscosso un enorme successo, in particolare su internet e sui social, perché molte influencer sportive, addirittura Taylor Mega, hanno provato i nostri leggings e i nostri top, felpe e maglie, quindi sono tutti molto felici. Abbiamo due linee, sono in particolare la linea un pochino più tecnica, che è quella fitness, che è più frequente per l'allenamento, e poi abbiamo il brand Glamour, che presentiamo qui in occasione della Coppa del Mondo di Ski, che è un brand da tutti i giorni. La chiamiamo linea Glamour e appunto preponiamo le felpe e le magliette. Il segreto del successo risiede appunto nello stemma del marchio, che è l'orsetto, che vuole esprimere proprio quanto il benessere, quanto il fitness faccia bene, quindi quanto sia collegato al benessere e quindi di conseguenza anche alla Coppa del Mondo di Ski e come voglia coinvolgere e motivare a fare attività. Marengo Mauro è un'azienda vitivinicola a conduzione familiare, che vinifica i propri 11 ettari di uva. Facciamo la produzione di tutti i grandi rossi delle Langhe, quindi il dolcetto, la barbera, il nebbiolo e soprattutto il barolo. Barolo che proponiamo in due versioni e oggi siamo qui a presentare il barolo Angela 2014. La storia di questo vino nasce nella nostra famiglia, grazie a nostra nonna che è stata la prima a portare le viti di nebbiolo nel comune di Novello. Abbiamo deciso di dedicare questo barolo a lei, perché secondo noi ha sensazioni molto femminili, essendo affinato in barrique di rovere francese, sebbene abbia un corpo decisamente possente, ha sentori delicati di vaniglia, ma anche più potenti come la ciliegia o frutta matura, che ricordano un po' le donne di Langhe forti che hanno tirato su molte famiglie. Forse è venuto quasi naturalmente l'idea di portare il vino in un'evoluzione anche del mercato, anche nella tecnica, mantenendo le tradizioni ma ricercando sempre la stessa qualità che i giovani oggi mettono in tutti gli altri settori del lavoro. Abbiamo questa azienda agricola che in prevalenza era cerealicola e da qualche anno facciamo anche le verdure e portiamo l'estate in inverno. Diciamo che le nostre verdure estive le mettiamo nei vasetti per poter dare la possibilità a tutti di mangiarle tutto l'anno. Sono verdure lavorate a crudo, in agrodolce, quindi non c'è solo aceto ma anche un po' di zucchero e sono gli unici conservanti che utilizziamo. L'azienda agricola nasce negli anni 50 con il nonno Pierino e poi con il frazionamento dell'azienda con i miei cugini abbiamo fatto dal 99 in avanti tutta una serie di lavorazioni per poi arrivare da un anno a quest'ultima parte appunto dei trasformati, dei prodotti. Siamo in un laboratorio conto terzi, i prodotti però sono i nostri, le ricette sono le mie. Il segreto è la capacità di aver valorizzato, quindi essere empatici con un territorio, quello del canavese, dove una delle botaniche prevalenti tradizionalmente era la canapa e quindi aver giocato sulla tradizione del vermo di Torino ma aggiungendogli un elemento di innovazione attuale che è la canapa come elemento di rompente che unisce tradizione e innovazione creando una sorta di empatia con un territorio. Prima di tutto si parte ovviamente da una materia prima che deve essere controllata in campo molte volte perché deve essere carica solo di CBD e non di THC quindi non deve avere elementi droganti per rimanere attuali ma poi soprattutto una volta che si è fatto un alcolato, un estratto con la canapa la parte più complessa è creare un blend di vini che siano vini che vadano a dare il giusto supporto strutturale alla canapa quindi in questo caso utilizziamo del cortese e dell'erbaluce nelle giuste quantità perché spingano il profumo, gli aromi, le qualità della canapa. Il segreto del successo è quel filo di follia che ci ha legato e portato a imbottigliare questo prodotto unico al mondo.